Siamo qua con Vito Lancellotti, una delle colonne portanti del Marco Polo, da quest'anno. Mezza colonna. No, no, colonna intera. La terza gamba del Marco Polo. Dici le tue impressioni su questa giornata. Eh, molto bello. Non ero molto convinto di partecipare per le mie note carenze mentali e tecniche. Alla fine mi hanno convinto a partecipare e sono contento. So che mi battoneranno, però mi sembra una bellissima festa. Mi dispiace molto di non aver mai conosciuto Rossini perché mi sembra di capire che era una gran bella persona. Comunque molto contento che mi abbiano convinto di partecipare. Come dare il doppio? Doppio abbiamo perso io e Claudio, però secondo il terzo set si hanno giocato. Belle partite. Tra l'altro con due che poi hanno vinto un set contro Filippo. Per cui... La prima volta che facevamo... Eh, vediamo. Vendere caro alla pelle. Vediamo. Quello senz'altro. Adesso dai, con due parole. Fai un bilancio di questa stagione. Il bilancio di questa stagione lo faccio alla fine della stagione. Non è ancora finita. Io, come avevo scritto, ho gli ultimi quattro mesi in cui voglio provare a migliorare. Alla fine di questi quattro mesi però il bilancio è completo. Adesso non ne ho ancora preso. Ovviamente. Grazie.